volete conoscere una nostra giornata tipo semplice rock'n'roll ma finite di fare casino mandare avanti una radio senza pubblico e fottersene delle presenze che infestano a casa nostra almeno fino a quella sera niente su sto computer non c'è un cazzo c'è un merda da provare io ho fatto uno scambio a pascio beh no scusa fammi capire tu hai fatto uno scambio a pascio per il computer di un morto aspetta hai visto? spettacolo abbiamo una che ci occupa il cazzo e mi occupa l'affetto costruirò una camera in grado di captare qualsiasi ectoplasma un ectocam michael? dov'è l'ectocam? non ce l'ho io ok? è sparito dov'è? grande giove peri super 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 Caro Jack, la bella notizia è che c'è una donna nel tuo letto. La brutta notizia è che è leggermente trapassata. Mi ho il computer, mi ha la trapassata. C'è gente che dorme! BABBONI!